Bella a tutti ragazzi abbiamo appena concluso la prima stagione con il Milan e simuliamo fino alla seconda stagione che sarà ora tra un lampo e ci risiamo e ci risiamo e ora è ora bella a tutti ragazzi stiamo finalmente per entrare nella seconda stagione con il Milan e speriamo di avere un bel budget ma soprattutto io prima avevo fatto un video dove mi ero comprato di bala Messi, Matip ma poi poi FIFA si è resettato tutto perché non l'avevo salvato stiamo di nuovo qui dai stiamo di nuovo qui e ci riproveremo ora ok no accettiamo mi ha fatto bene accettiamo i 9 milioni ma non bene simuliamo fino alla fine del torneo e porca miseria voglio vedere come andiamo perché secondo me andiamo davvero male bene abbiamo finito di fare ma abbiamo 128 è ok ma scusatemi mica siamo anche in UEFA Champions League finalmente sono messi però ancora non sono usciti i sorteggi non sono usciti non sono usciti non sono usciti benasserno Riccardo Rodriguez si se ne può andare confermato che si per 22 no Romagnoni io ragiona così se se ne vanno 98 milioni ok accordo per la cessione di Rodriguez pensavo a Romagnoni 9 milioni e accettiamo queste 9 milioni dai 25 la Valencia per Castiglia Castiglia che è scarsa e se se ne va 39 possiamo sceglierlo però 87 87 mamma c'è da vedere è un giovane a 25 anni mamma ci chiediamo 137 per annarsi ma caccia i soldi che li 117 117 114 114 114 clair calmati che è troppo che vi sto chiedendo una cifra così alta per il mio gioiello Paqueta no, via no Via mai, paqueta C'è l'anoglu qui Per essere qui Per ora Paqueta qui Ma la nostra squadra Puoi cambiare Faccia Con i nostri 128 milioni Acce Cioè ma se noi ci possiamo Comprarare Ci possiamo permettere Di comprare Di valo Messi Cioè ma io Li butterei tutti questi giocatori che ho Per comprare l'oro Abbiamo Tanti soldi Ma Non a sé Per aumentare così E che via De tre Non abbiamo Così tanti soldi 85 milioni 115 86 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 10 11 11 Allora Io ragiono In un certo modo Allora Andiamoci A comprare Messi Poi Cerchiamo Di simulare Una Una Stagione Intera 80 È un sogno 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 Messi Che viene qui A Milano Ora Ci do tutto Spenno tutto Scusa 5 170 Ci rimane Ci rimangono ancora 71 Un colpo Per chi vogliamo fare il difeso C'è l'anoglu Vuole essere Ceruto Quindi Per fare così Mettiamo Un 4 4 2 E dove sta? Qui Messi Seconda Punta Ok Al posto Di Buona Ventura Che Si Simuliamo Una Stagione Intera E vediamo Dove Arriviamo Ragazzi A dicembre Siamo arrivati Continuiamo Ok Ok ragazzi Questo È il mercato Di Riparazione Se si può chiamare così Il mercato Di Gennaio E andiamo a comprare Di bala 80 milio Ok Presa di bala Grazie. 290 accettato, preso di bala, che poi abbiamo scelto quell'altro e prendiamo un 89 che può diventare anche il 91, 92, si muoviamo fino a maggio e vediamo. Ragazzi, però, ora arrivati qua, continueremo a giocare. Benevento. Oddio, pensavo 784 milioni. Ronaldo sarà contattato l'anno prossimo insieme a uno come... Fatemelo cercare... No. Come si scrive Griezmann? Che ho perso il cervello. Hey! La Liga Inconforama, vabbè. Sono modi. La Liga Santa Verna. Nel Barcellona. Alla sua parte. E Griezmann? No. 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 ok ora giochiamoci troviamo l'invetta al terzo posto per la serie a team vince lo scudetto mamma non ci credo ma com'è siamo stati tanti giorni impegnati con questa carriera che io poi sto giocando l'ultimo mese lo stimolato però fidatevi questo questo episodio l'ho fatto a divisa in giorni 49 va bene che volete fare succede succede ecco 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 andiamo a provare per matip si può prendere la parametro 0 ok dai ci diamo nella terza stagio siamo qui nella terza stagio e abbiamo questo squadrone di fronte caldara come abbiamo capito sta in panchina abbiamo 95 milioni quest'anno si deve venire pericolo vi dico una cosa non ho mai avuto l'overall più basso di 54 quindi 44 io ho paura va bene comunque uomo che verrà contattato che giocherà al posto ronaldi tipo dove lo potrei mettere attaccante oppure esterno io direi esterno per ora poi diventerà un attaccante quando verrà gruisman inaccettabile offerta per ora per ora c'è sempre mi Trattiamo i 40 anni. Trattiamo i 48 anni. Io accetto perché lo voglio. Poi, e certo ci vendiamo. Due anni. Duecento. Grazie. 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 Stiamo parlando proprio di Ronaldo. Novanta. C'è pericolo. Ma io non voglio essere esonerato con questa squadra davanti. Il mio. Sale l'overo. Attenzione. Possiamo non essere. Buonaventura. Venuto. Buonaventura. 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 benasser in prestito non c'è no è no benasser non ce ne va via vai vai che lo faccia via a gabbia silenzio perché è un'offerta questa che può cammera ok dai simuliamo fino al sassu ho aggiunto il match col sassu e abbiamo altri 63 milioni da spenner io andrei su grisma quindi e 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 il prossimo video lo farò tra un mese e e e e e e e e e stagione e e e e sarà sarà legato a questo e e e e e e